Tutti adesso stanno correndo verso la rete. Questo è lo slogan che attraversa il sistema mediatico. Da qualche ora si sono accorti che solo usando la potenza virale della rete è possibile imbrigliare, circoscrivere, recintare il contagio. Tutto questo significa avere soluzioni, idee, proposte, avere calcolo, avere software, ma soprattutto tutto questo significa avere dati. Aveva dati evoluti, dati in quantità, dati già sgrezzati, già elaborati. E chi è che ha questo tesoro da cui dipende la sopravvivenza di gran parte degli ammalati, di quei contagiati che stanno arrivando a due miliardi sul pianeta? Un abitante su tre della Terra oggi è coinvolto dal contagio e guarda caso è proprio la parte più avanzata del mondo, quella che vive in rete. Sono i clienti di Google, di Facebook, di Amazon che oggi hanno bisogno dei dati che loro hanno dato a Google, a Facebook, ad Amazon. Oggi le istituzioni, i governi, l'istituzione internazionale e l'Unione Europea devono pretendere la restituzione di questo bene pubblico per un uso pubblico, per una salvezza pubblica. Senza quei dati tutta l'azione di contrasto al virus sarà più laboriosa, più complessa, più lunga, con più morti. Allora dobbiamo decidere qual è il titolo che oggi prevale, la proprietà privata di un bene indebitamente accumulato o l'uso pubblico di un bene pubblico. Questa è la partita, vuol dire in 24 ore aprire le black box e permettere a chi oggi è in grado già di lavorare su quei dati di costruire mappe, di dare una quantificazione a questo spettro che è il contagio reale, che conta molto di più, si dice, fino a dieci volte del contagio ufficiale che viene censito dalle strutture sanitarie. Senza fare questo sarà una lotta con le mani legate dietro alla schiena. Non ce lo possiamo permettere, non ce lo dobbiamo permettere. Alla prossima.